Ciao ragazzi e ragazze e benvenuti dal vostro Dark House 92 stavolta, non 92 Oggi siamo qui con questa nuova guida di Fortnite, ovviamente io ve la porterò prima Ma tralasciando quello ragazzi E' la mappa del tesoro trovata a profondo stantio, ok? Eccoci qua in game per farvi vedere appunto il posto Il punto esatto dove trovarla è precisamente qui, ok? In quel punto esatto si potrà trovare la stella Io adesso vi faccio vedere direttamente il punto dove si troverà la stella Quindi mi raccomando tanti like e iscrivetevi al canale, soprattutto attivate la camparella Comunque adesso scendiamo e ci vediamo tra poco Finito? Grazie Eccoci qua ragazzi Allora praticamente da come vi farò vedere la mappa che la vedrete qua sopra più o meno Oppure di lato, non so dove metterla ma vi farò vedere Appunto si vedrà questa roccia con questi qua, tutti al lato, ok? E si vedranno questi tre alberi qui accanto Precisamente potete trovare la stellina Proprio precisando la potete trovare qui Si dovrebbe trovare qui in questo punto preciso O qui dove sto facendo io con il piccone Oppure qui O qui o qui Questi sono i due punti dove potete... Vabbè comunque si trova qui centrale quindi non potete sbagliarvi Vi ringrazio ancora per aver visto questo video Noi ci vediamo prossimamente con una nuova guida di Fortnite Bella ragazzi, vi voglio bene Ciao E mi raccomando iscrivetevi al canale Al attimo della campanella E supportatemi con una piccola condivisione di questo video Per farlo vedere a tutti i vostri amici E per farvi vedere dove si trova la stellina Bella Ciao